In attesa del possibile ripescaggio della cavese in Serie C, la società, guidata dall'amministratore unico Massimiliano Santoriello e dal presidente Antonio Fariello, continua la programmazione dei lavori di restyling dello stadio Simonetta Lamberti di Cava De Tirreni. Infatti, con la delibera numero 179 del 5 luglio 2018, la Giunta Comunale ha autorizzato per i lavori di manutenzione al gruppo di continuità dello stadio comunale lo scomputo di 2455,92 euro alla società cavese 1919. L'autorizzazione è stata concessa a seguito del sopralluogo effettuato all'impianto da parte dei tecnici comunali, che, in una nota tecnica, hanno riconosciuto la necessità degli interventi per garantire il perfetto funzionamento del gruppo di continuità, in particolar modo decisivo per evitare improvvisi blackout in occasione di match in notturna. Tale ratifica rientra nelle possibilità previste dal regolamento sugli impianti sportivi, approvati con la delibera consigliare numero 58 dello scorso maggio, con la quale l'amministrazione può consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione, con scomputo totale o parziale, delle somme dovute a titolo di canone di uso degli impianti sportivi. Intanto, nelle prossime ore da Palazzo di Città, arriverà il via libera anche ai lavori relativi all'impianto di videosorveglianza, che, come ha spiegato l'assessore Enrico Polichetti, saranno pronti nel giro di pochi giorni.